Grazie, la vengo a trovare qui spesso, va bene, vediamo un po' se lo vedrà la mattina. Salve signora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, fa lavoro. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a voi. Buongiorno a voi e buono shopping, grazie. Hola Franco, futuro Presidente del Municipio, se voi ci andate qui, ci concedete i giorni festivi, compreverete la legge, qui c'è un dirigente del Municipio qui, si chiama Tranquilli. La conosciamo, la conosciamo. Grazie, grazie tante. Buongiorno signori. Questo è il più grande che ci spiega. Ciao, ciao. Come stai bene? Sì, facciamo qualcosa qua. Ce la mettiamo tu, vediamo chi stiamo qua. Questo è il giovedì e sabato, giovedì e sabato mattina, due volte a sabato mattina, il più grande che c'è tutto il Municipio. Che ora qui, prima erano andate, fino a piano piano, stanno esaltando a chiudere il più perché la crisi, poi, anzi, in questo è ancora un po' di più. Eh, che stai dicendo, la cosa buona, che qui in qua ci stanno, stai tagliando ancora, anche a me dicendo, ma ci stanno alcuni mercati, già c'è il sole, ci puoi dire? Che perfetto da bambina! Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve, ciao. Te la faccio io col telefono tuo? Allora, stanno a metà. Non ti preoccupare, sei emozionata? Non ti stai emozionata. Vai. Tanto di viene? Vai. E qui la posto, e la percorso a tutti. Grazie.